Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Nerazzurro, bentornati nel canale, buon video, buon giovedì Cale? Adesso mi raccomando non russare Allora, questo è uno dei classici video dove la gente mi dirà che non capisco un cazzo di calcio e menate varie Perché io, partiamo dal presupposto e partiamo da quella che è il mio personalissimo pensiero Sono estremamente contento di vedere Van Oysden e Emmers andare via dall'Inter O meglio, essere venduti e riuscire ad avere una plusvalenza, un guadagno di 20 milioni Cioè voi adesso ditemi quello che volete Tu lo vedete sempre adesso devi russare, sempre adesso Ditemi quello che volete Ma stare ancora qua nel 2019 ad aspettare dei giocatori, dei giovani Che poi sicuramente non avranno spazio nell'Inter Uno era sbattuto alla Cremonese, l'altro si è fatto un infortunio lunghissimo E poi è finito allo stando a Liegi Ti vai a prendere 20 pali, 20 milioni Per due giocatori che all'Inter al 99% non ce ne verranno mai Che su Van Oysden hai il diritto di raccompra Quindi se per caso dovesse diventare chissà chi Lo vai a pagare ma sei il primo a poterlo prendere Capite bene che c'è Perché l'Inter non deve autofinanziarsi il mercato con dei giovani Che tanto non valorizzerà mai Che tanto non lancerà mai E allo stesso punto, allo stesso modo Vorrei ritornare sul discorso del fatto che l'Inter ne ha lanciati 100 In primavera 100 Sono esplosi in 5 forse, 4 Di tutti gli altri è normale che se tu ne lanci 100 2, 3, 5 possono diventare forti Che poi di questi forti oggi mi sembra che ci siano Pinamonti e Zagnolo Di cui il primo è ancora nostro e il secondo è alla Roma Però non è che stiamo parlando di giocatori che hanno fatto, hanno detto, hanno scritto la storia o qualsiasi altra cosa Cioè si sono fermati lì Il trasferimento che ci ha portato tot numero di soldi e tot numero di vantaggi basta Invece no, dobbiamo stare lì ad aspettare il giovane Quindi, comunque, la notizia è che Emers e Van Hoisden vanno allo standard Liegi per 20 milioni Si è chiusa la porta col vento 20 milioni, diritto di recompera sul secondo E basta Prendiamoci questi 20 milioni e andiamo a investire per altro Che ci conviene? Date retta a me Anche perché già l'anno scorso Van Hoisden doveva venire a giocare all'Inter Fare il difensore, la riserva e tutto il resto Sbattuto in Belgio Quindi Pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora è fatto Ditemi se sono esaurito io a pensare a credere questo Nella giornata del dolore all'Inter ho giocato a morire Vi ricordo che nel 2009-2010 l'Inter ha vinto con un'età media che era superiore ai 30 anni Così